E' scaduto il contratto a termine e non me l'hanno rinnovato. E ora? E ora passo dalla parte dei piccioni. Ma non mi disperdo, te lo sai caro Arturo, con questo dumanine sante posso fare qualsiasi cosa nella vita. Vado lì, vado lì, fermi tutti, fermi tutti. Pronto, pronto, pronto. Lupo triste chiama Passera Solitaria. Signorina, è il suo destino che parla. Se guarda a sinistra vedrà il volto dell'uomo della sua vita. Niente da fare. Ha perso una grande occasione. Passo e chiudo. Che carrozzeria, eh? Donna di buona scocca, beato chi la tocca. L'hai fatta colazione? No. Briochina panoramica? Sì, però facciamo un fretta, eh. Vai. Allora? Allora? Allora?